Buongiorno ragazzi, buongiorno Mamma mia, è caldissimo, mi sono appena messo la crema, stanotte siamo riusciti a dormire perché abbiamo deciso di non andare a fare serata, almeno per una volta e... il brucio, sto già bruciando ragazzi, un po' l'aretto, cioè guardate qua vabbè comunque adesso volevo fare qualche ripresa d'esterno per il video e ci vediamo dopo il piani di oggi è sempre barca come al solito barca, 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 stasera andiamo in una trattoria a mangiare cibo sardo molto tipico e va bene questa non l'avevo vista nuova? la vanderia non è che sono nel cuore che non si fa bene allora panini preparati per il pranzo stiamo aspettando che arrivino un paio di ragazze e poi partiamo partiamo in barca cala napoletana ragazzi siamo qua in tranquillità appena mangiato un panino era uno dei panini tipo più intensi may day, may day, may day chiediamo subito soccorso soccorso un mortuorio qua ragazzi comunque niente adesso l'entusiasmo lo portiamo noi o no niente ora tiriamo sul drone ragazzi almeno cala napoletana regala un po' di vino e un po' di entusiasmo ma è buonissimo ragazzi è buonissimo qua non si scherza come al solito la speranza è l'ultima a morire commentino commentino non è male non sa di spritz ma è buono la fine oramai finita l'estate finita le tue ferie ci troviamo qua la napoletana ok come è andata un pochino il pomeriggio la giornata sta migliorando ma difficile ma ragazzi ce la faremo ce la faremo ce la faremo per forza di cose comunque a parte di scherzi guardiamo il panorama la situazione qua bellissimo fatemi un commento sul posto stupendo molto bello molto bello cambiereste qualcosa? no no niente vi è piaciuto il drink che abbiamo molto buono molto buona proporzioni ghiacci hai provato bene ragazzi adesso andiamo via perché sennò Edoardo si infastidisce ciao benzina diesel o una cosa speciale è ben zitto madame il buon vecchio Edoardo è qua che pulisce la barca l'ottimo mozzo niente ragazzi giornata di sole io sto utilizzando la pole ma vorrei non farlo perché mi sto bruciando tutto completamente tutto niente adesso finiamo di pulire qua e poi andiamo a prepararci perché si va a mangiare in un ristorantino molto tipico cioè non tanto ristorante ma mangiare cucina tipica sarda stasera allora sono piaciute le foto posto stiamo continuando a scattare e questa cos'è? mi sta guardando si cosa è? aio il vlog della Sargdegna tutti dentro veloce ci siamo ci siamo andiamo allora ci siamo siamo pronti siamo l'escar di Lorenzo olè ho pagato un sacco di soldi stasera e ancora non ha saldato e le porto fuori a cena olè è deciso non lo saldo è vino rosa bello però carino no? molto carino sono andata a salutarla sono di cina la salta ma come siamo all'interno non si sa mai non si sa mai ma cos'è? ora mi dai pronti a te vai vai basta che lo tupi sopra e il resto è bello ma qui c'è il menù? c'è una notte spaziale adesso è una buona aspetta facciamo così qua questo vai a Sargdegna allora com'è stata oggi la giornata? felice? mamma mia tutta è storica tutta storica una piccola videocamerina che fa l'escaro e viene adesso siamo guardate perfetto perfetto oh bene non è sminno ma sta riprendendo un minuto ragazzi se ridete se ridete ma perché stiamo facendo un reel un reel? salutiamo salutiamo salutate salutate ragazzi ciao ragazzi ciao ragazzi siamo qua numerosi in questa ottima serata a base di no è tutto c'è tutto c'è tutto c'è tutto voi cliccate qua due volte tre volte fai l'esperto dai che non sei e quindi iscrivici un po' questa serata allora Edoardo ci ha accolto nella maniera più vera possibile come sempre perché guarda solo me ha criticato il mio avviso e guarda solo me quindi vi ricordi che abbiamo vino rosso e bianco della casa oppure qualcosa è un carona perché ti nasconde è il famoso porcedù questo giusto il famoso porcedù il porcedù sardo e qual è la tecnica giusta deve essere piccolo va bene come cosa deve avere al minimo 5 kg di mese 6 kg di metà per essere quella ok ok adesso è perfetto poi bisogna fare la cultura giusta e via come si chiama porcetto porcetto non porcetto è il porcedù è il porcedù ragazzi leggero morbido buono speriamo che spontaneamente adesso lo staniamo e gli diamo colpo secco non siamo quasi soli non siamo quasi soli non siamo quasi soli che fretta c'era maledetta primavera che fretta c'era maledetta sole che fretta c'era speriamo che non siamo soli non siamo sui che fretta c'era ma non siamo soli che fretta c'era che fretta c'era che fretta c'era Stiamo sprecando il tempo Ci spariamo una ciolla, leni e via Edoardo è incazzato Edoardo è incazzato? Edoardo è incazzato Ma stai facendo il video per Edoardo? Per forza Siamo a Canigione Edoardo è incazzato nero Edoardo è sempre incazzato Non è Edoardo, adesso è Edoardo Sempre incazzato Stai entrando a casa sua Adesso ci lascia fuori Lui è incazzato Vediamo, facci un house tour Adesso è venuto a parlare, non ho capito Tutti zitti Perché sei incazzato? Perché sei incazzato? Ho trovato un altro autismo Perché sei incazzato? Perché sei incazzato? Edoardo si vergogna Io ragazzo qua si vergogna un pochino Ragazzi iscrivetevi Non dimenticatevi di mettere like Seguirmi sul mio canale Ehi cazzo qua facciamo il pochino Attivate la campanella Io si voglio Ah io che Ah che sono compri Ah io facci vedere le tette No Fai nel corallo Oh però quando si fissa si fissa eh Ma perché No ma è padrone così Sta fatta fanno cagare